Ciao ragazzi, un saluto da Luca Di Leonardo di tuttofantacalcio.it Come di consueto in questa rubrica andrò a analizzare i vari acquisti che avvengono in questo mercato di gennaio In particolar modo oggi andrò a presentare brevemente Victor Moses, centrocampista classe 90 appena acquistato dall'Inter E' un giocatore che nella prima parte di stagione ha giocato nel Fenerbahce in Turchia collezionando 7 presenze e 1 gol Conta 32 presenze e ben 12 gol nella nazionale nigeriana Quali sono le caratteristiche di Moses? E' un giocatore sicuramente forte fisicamente, veloce, abile nel dribbling E' un giocatore che riesce a creare superiorità numerica Adattissimo nel 3-5-2 di Antonio Conti In quanto è un esterno che cura sia la fase difensiva che la fase offensiva Un esterno destro Qual è il consiglio di tuttofantacalcio.it? In una Lega 8 sicuramente può andar bene come sesto o settimo slot In una Lega 10 come quinto o sesto slot Questo perché? Perché sicuramente non sarà un titolarissimo Si giocherà il posto con Candreva e visto che comunque l'Inter gioca a varie competizioni Sicuramente più volte andrà a voto Il discorso è che comunque va visto come una scommessa Perché è un giocatore straniero che viene nel campionato italiano E quindi come ogni giocatore straniero bisognerà capire quale sarà il suo periodo di ambientamento E' sicuramente un giocatore che può far bene al fantacalcio Non spendete tanto in sede d'asta perché comunque non è un top Valutate bene qual è la vostra rosa centrocampo Può essere visto come un'alternativa ai vostri titolari Chiaramente valutabile partita dopo partita Ecco quindi ragazzi la presentazione di Victor Moses dell'Inter Vi chiedo di iscrivervi al nostro canale Tuttofantacalcio Per essere sempre informati sui nostri video Se vi è piaciuto in particolare questo video vi chiedo di mettere un like Un saluto da Luca Di Leonardo e dallo staff di Tuttofantacalcio.it Ciao ciao